Franzo, possiamo dire in definitiva che manca veramente poco al traguardo? Diciamo che siamo ad un passo letteralmente dal traguardo. Ieri il Governo regionale ha finalmente deliberato il DDL di variazioni territoriali per i comuni di Gela, Piazza Almeria e Niscemi e quindi quest'ulteriore passo è stato fatto. Siamo felici per questo, dobbiamo soltanto attendere adesso l'approvazione del Parlamento regionale ma si tratta di una presa d'atto in sostanza nulla di più. E quando Gela poi materialmente entrerà a far parte della città metropolitana di Catania? Nel momento in cui verrà pubblicata in gazzetta ufficiale e quindi appunto manca il passaggio del Parlamento regionale. Speriamo che questo passaggio si risolva in pochissime settimane. Fatto questo possiamo dire che siamo con Catania ma finalmente potremo dopo undici anni di duro lavoro festeggiare. La cosa più importante è che potremo finalmente programmare il futuro di queste comunità con un'area più ricca e con un'area che avrà più risorse a disposizione. Questa è la vera importanza e da un punto di vista economico il cambiamento che avranno questi territori. Ed è una battaglia vinta da tutti, da Gela in primis, che lo ha dimostrato con il referendum e poi anche con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Da undici anni seguiamo questo progetto. Abbiamo iniziato con la provincia di Gela, il libero consorzio di Gela, il libero consorzio di Catania per approdare poi la città metropolitana di Catania. Devo dire che senza il supporto di tutti i cittadini gelesi, da soli il Comitato per lo sviluppo del Geles e da soli insieme ai Comitati di Piazza Almina e Niscemi non avrebbe mai potuto centrare questo obiettivo. Se questo obiettivo si è centrato è perché 18.000 gelesi hanno sottoscritto prima la proposta di legge popolare. 24.000 sono andati e si sono regati materialmente alle urne per votare il referendum. Abbiamo riscontrato il consenso dell'intera città. Questa battaglia si è vinta perché c'era il consenso di una città all'unanimità. Diversamente non sarebbe stato possibile.